Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esami matochimici, sale operatorie, un chirurgo, un'equip chirurgica, delle strutture adeguate e naturalmente un posto operatorio di 6-7 giorni. Quindi da un punto di vista, oltre ad avere un costo anche importante, diventa una cosa impegnativa. La medicina estetica, dall'altra parte, è qualcosa di più rapido, con costo più basso, diciamo un po' una cosa che si fa in giornata, che dà un risultato minore, sia di qualità sia di durata, ma da un punto di vista senza rischi, senza degenza, senza necessità di fare una serie di esami, senza necessità di sale operatorie e di strutture particolarmente sofisticate. Questa nuova richiesta che è comparsa un po' di anni fa richiede una chirurgia che non è invasiva e una medicina estetica che non è anche questa superficiale. Quindi stiamo esattamente a metà e queste persone possono avere dei risultati che non sono definitivi come nella chirurgia, ma nello stesso tempo neanche temporani, di breve durata come la medicina estetica. Ecco, andiamo un po' a specificare. Se uno fa un intervento chirurgico, diciamo lo fa quasi per tutta la vita, quindi se uno mette una protesi, a meno che non ci siano delle problematiche, se l'è impiantata e se l'è messa costantemente. La medicina invece ti può risolvere il problema magari per un qualche mese, possiamo dire. Invece queste nuove tecniche ti risolvono il problema senza intervento chirurgico, se ho capito bene, però te lo risolvono per due o tre anni. Esatto, perfettamente. Allora, c'è contrapposizione intanto fra la chirurgia estetica, la medicina estetica e queste nuove tecniche? No, non c'è contrapposizione, sono complementari, perché noi possiamo anche affermare che una persona può gradatamente approcciarsi alla risoluzione di un problema estetico. Non sempre una persona è disposta a sconvolgere la propria fisionomia rapidamente, o per un problema di tempi, o per un problema di costi, o per un problema anche psicologico, ha bisogno di dei passaggi. Queste nuove metodiche sono un passaggio in più che permette una gradazione più lenta verso un intervento chirurgico.